Ciao Vittorio, un caro saluto a te e a tutti gli amici del canale. Torno dopo un lungo periodo di assenza dovuto a impegni di lavoro ovviamente e volevo farlo attraverso un volo d'aquila che peraltro mi è stato suggerito da uno dei follower del nostro canale che lo segue con molta attenzione anche se a dire il vero non è un tifoso bianco celeste, è un simpatizzante. Lui ti fa per un'altra squadra ma va bene lo stesso anche perché il nostro canale accetta tutti visto e considerato gli argomenti trasversali che noi trattiamo. Quindi un volo d'aquila dobbiamo riprendere da dove ci siamo lasciati, l'ultimo è stato fatto a gennaio dove vi avevo annunciato alcune cose che si sono poi avverate nel corso dell'anno e quindi diciamo facciamo un attimino il punto della situazione. Vi avevo lasciato appunto dicendovi che il 2024 sarebbe stato un anno importante per quanto riguarda l'aspetto delle elezioni a livello mondiale perché erano oltre 2 miliardi gli elettori che sarebbero stati chiamati alle urne per 76 paesi per poter rinnovare i propri parlamenti o le cariche presidenziali all'interno dei loro stati, dei loro paesi ebbene molti di questi si sono già conclusi. Per quanto riguarda il mese di gennaio si è aperto con le elezioni a Taiwan che ha visto la conferma del partito indipendentista che ha raccolto poi così tutti quanti gli apprezzamenti a livello mondiale inclusi quelli di Xi Jinping anche se il leader cinese ha tenuto a precisare che la vittoria del fronte indipendentista non cambierà di un millimetro, non sposterà di un millimetro quelle che sono le politiche estere di Pechino che va verso l'annessione dell'isola alla Repubblica. Nel mese di febbraio poi è andata l'Urne l'Indonesia che ha visto la conferma del fronte nazional popolare e quindi un governo molto vicino a Pechino, mentre poi a marzo sono andati alle urne gli elettori della Federazione Russa per eleggere il nuovo presidente della Federazione Russa ad un'affluenza del 77% circa è stato confermato con l'80% delle preferenze Vladimir Putin ma nel mese di marzo si sono tenute anche la prima delle due sessioni di elezioni parlamentari per quanto riguarda la Repubblica Islamica dell'Iran che ha visto la conferma del fronte ultraconservatore ovvero di coloro che hanno dato vita poi alla rivoluzione islamica della fine degli anni 70 un tornato elettorale che sicuramente è stata caratterizzata invece contrariamente rispetto alla Federazione Russa dall'elevato assenteismo perché poco più del 30% degli aventi diritto sono andati al voto. Iran che poi nel mese di luglio è dovuto tornare ancora alle urne per poter eleggere il nuovo presidente della Repubblica Islamica in sostituzione del compianto Raisi che è morto tragicamente a seguito di un incidente aereo in una regione remota del proprio paese dove lui era in visita insieme al Ministro degli Esteri ebbene mentre la elezione del nuovo presidente ha fatto segnare un incremento dell'affluenza alle urne perché c'è stato un ballottraggio fra un rappresentante moderato e uno conservatore che poi ha visto attraverso un'affluenza di oltre il 50% la vittoria del rappresentante moderato che è Pazeskin che è diventato il nuovo presidente della Repubblica Islamica dell'Iran e che nei suoi primi discorsi ha teso la mano a quei paesi specialmente occidentali che da anni oramai applicano sanzioni contro il suo paese e quindi che rendono poi difficile quelle che sono le trattative commerciali e diplomatiche tra il paese, tra Teheran e il resto del mondo. Ad aprile poi è stata la volta dell'India che ha confermato anche qui il fronte nazionalista anche se il partito nazionalista non ha ottenuto un numero sufficiente di voti per poter avere la maggioranza assoluta ma è stata obbligata a formare un'alleanza di governo per poter restare a capo del Parlamento mentre a giugno come ricorderete è stata la volta dei paesi europei per le elezioni dell'Unione Europea elezioni che ha confermato la vittoria del Partito Popolare Europeo e quindi di un partito di centrodestra ma soprattutto poi la conferma di alcune nomine fra cui Ursula von der Leyen e quindi la presidente olandese che continuerà quindi con le politiche con green footprint per quanto riguarda poi lo sviluppo energetico dell'Unione Europea. A lui è stata la volta anche dalla Gran Bretagna che ha visto sorprendentemente la vittoria dei laboristi che si sono affermati dopo 14 anni di incontrastato governo dei tori. I laboristi ovviamente hanno un programma di governo maggiormente europeista, questo non vorrà dire sicuramente un immediato ritorno all'Unione Europea da parte dell'Inghilterra ma sicuramente una politica meno contrastata con quella che è l'Unione Europea dalla quale poi l'Inghilterra penso possa ottenere dei vantaggiosi accordi soprattutto commerciali visto e considerato le difficoltà sperse in termini di approvvigionamento che ha il paese che sta affrontando il paese da quando ha adottato la Brexit e quindi ha deciso di lasciare l'Unione Europea. E poi queste tornate elettorali le più importanti che io vi ho citato si concluderanno ovviamente con il 5 di novembre quando saranno gli Stati Uniti ad andare al voto per poter eleggere il nuovo presidente della Repubblica americana per una corsa a due che prima era fra il candidato sfidante repubblicano ex presidente della Repubblica Donald Trump e l'attuale presidente della Repubblica democratico Biden salvo poi Biden a rassegnare le dimissioni in favore del suo vice quindi di Kamala Harris e quindi una corsa alla Casa Bianca che ha ripreso vigore visse considerato il vantaggio che prima Trump aveva su Biden anche a causa magari di un aspetto soprattutto a livello fisico per non parlare a livello anche di gaffe che aveva compiuto Biden ultimamente addirittura arrivato in una visita ufficiale a chiamare Zelensky a chiamarlo Putin e quindi a dimostrazione di uno stato fisico probabilmente non ottimale che lo ha suggerito che gli è stato suggerito magari anche di farsi da parte a favore del suo vice che in questo momento sta impostando la sua campagna elettorale quindi ha trovato i finanziamenti ha trovato l'appoggio degli elementi del suo partito e la signora Kamala Harris in questo momento si trova a dover rincorrere un pochettino il terreno ma da quello che si legge soprattutto per quanto riguarda la stampa americana sembrerebbe comunque recuperare terreno nei confronti di Trump che sta adottando in questo momento una strategia di campagna elettorale diversa. Per quanto riguarda poi sempre gli aspetti internazionali ovviamente non possiamo non parlare dei conflitti in questo momento ancora vivi soprattutto quello che c'è fra federazione russa e ucraina perché da operazione speciale a cui aveva annunciato il presidente Vladimir Putin oramai siamo a due anni e mezzo di conflitto e addirittura con una controoffensiva ucraina che è entrata nell'oblast di Kurs in Russia occupando una regione piuttosto importante visto e considerato che ospita uno degli hub energetici come diciamo uno snodo del gasdotto principale che porta poi il gas in Europa che in questo momento sembrerebbe essere sotto il controllo delle forze ucraine ovviamente l'obiettivo non è quello di invadere di conquistare la federazione russa ma è quello di cercare di distrarre forze che in questo momento russe occupano l'Ucraina e quindi di portare queste forze russe a difesa poi del territorio di Mosca una strategia che in questo momento sta pagando perché il presidente Putin ha dato ordine di spostare alcune truppe che stanno in questo momento difendendo la regione interessata all'interno del proprio paese ovviamente questo dimostra cosa dimostra come nei tempi moderni e nel momento che entrano in campo poi il gioco delle alleanze non c'è più un paese così schiacciante nei confronti di un altro ma si va sempre su un discorso di grande equilibrio e purtroppo di un protrarsi del conflitto che porta sofferenza morte e dolore ma soprattutto potrebbe poi portare un domani ai decisori di poter impiegare magari dei sistemi d'arma diversi per poter volgere a proprio favore il conflitto. Sempre per quanto riguarda il conflitto abbiamo parlato anche nell'ultimo volo d'Aquila dello scontro che c'è fra lo Stato di Israele e la milizia palestinese di Hamas dove avevamo detto che difficilmente sarebbe rimasto concentrato, limitato nelle aree in cui si stava combattendo e in effetti è diventato un problema regionale che ha in questo momento interessato l'Iran, Libano sicuramente anche lo Iemene che potrebbe anche interessare ovviamente alcune aree dell'Iraq, sicuramente di azioni e contro reazioni che ci sono in questo momento tra lo Stato di Israele e tutti questi altri attori in quanto ovviamente la guerra sta andando avanti e non si riesce a trovare una soluzione. È in atto una forte attività diplomatica lead americana che sta cercando di coinvolgere i più paesi possibili, specialmente del mondo arabo, per cercare poi di trovare una soluzione per un cessato del fuoco che in questo momento sembrerebbe non arrivare e con lo Stato di Israele che sta continuando a condurre attacchi preventivi come quello che ha portato poi alla morte e all'uccesione attraverso un raid aereo del leader politico di Hamas a Teheran, dove Teheran ha giurato vendetta e che si sta aspettando da giorni questa possibile retaliation che ovviamente non sarà esclusivamente dall'Iran nei confronti di Israele ma interesserà un attacco che sarà combinato e che proverrà verosimilmente da più parti, sicuramente dall'Iran, da qualche area dell'Iraq, dal Libano con la milizia Hezbollah, dalla Palestina con il lancio di razzi e poi anche dallo Iemene con la milizia Uti così vicina anche nella guerra civile che vede il paese iemenita, soprattutto l'etnia Uti che è molto vicina a Teheran. Una situazione che nonostante i rapporti che si stanno cominciando non a deteriorare ma sicuramente non più facile, non più fluidi tra lo Stato di Israele e gli Stati Uniti, comunque hanno suggerito a Washington di posizionare nel Golfo Persico ancora la flotta navale per poter poi intervenire in difesa di Tel Aviv laddove dovesse essere condotto un attacco simultaneo da più parti e quindi per poter eventualmente intercettare vettori che vengono lanciati contro lo Stato di Israele. Per parlare di sport, il 2024 è stato anche l'anno delle Olimpiadi a Parigi che sono state caratterizzate inizialmente anche da tantissime polemiche per quanto riguarda soprattutto la scelta di alcune scenografie durante la cerimonia di apertura, polemiche che sono poi continuate anche durante i giochi, visto e considerato le lamentele che sono piovute sull'organizzazione per quanto riguarda specie la parte alloggiativa dove sono stati ospitati gli atleti, sicuramente in alloggi non consoni del livello degli atleti e della manifestazione, ma soprattutto poi tutte quante le polemiche che ci sono state anche all'interno delle varie discipline per quanto riguarda poi delle discussioni che si sono aperte sulle differenze di genere, su atleti che avevano più o meno testosterone, non stiamo qui a parlare e a fare della politica di genere su questo canale, ma sicuramente dei dibattiti che apriranno sicuramente un domani anche delle soluzioni che dovranno essere trovate dalle varie federazioni sportive per poter poi cercare di dare alle Olimpiadi quel senso di sportività che hanno sempre incarnato, addirittura fermavano le guerre, quest'anno non hanno fermato neanche queste, anzi si è parlato a lungo, si è cullata a lungo anche la possibilità di attentati terroristici o comunque di sfruttare la vetrina delle Olimpiadi per poter condurre degli attentati che potessero avere grande visibilità a livello mondiale, quindi figuriamoci anche come adesso vengono considerate queste e queste cose. Poi l'Italia alle Olimpiadi ha fatto il suo, ha conquistato la sua parte di medaglie, in qualche disciplina magari siamo venuti a mancare come la scherma, in qualche altra invece siamo andati ben oltre quelle che potevano essere le aspettative come ad esempio il volley femminile di Julio Velasco, nuovo commissario tecnico della nazionale femminile, ex dirigente anche bianco celeste dell'epoca Cragniotti che lo stesso presidentissimo Cragniotti aveva portato dicendo che anche se lui stesso aveva detto che non capiva niente di calcio l'importante era avere nello staff gente che era abituata a vincere visto che lui era reduce da una striscia di risultati incredibili con la nazionale allora maschile di pallavolo dove aveva vinto tutto fuorché le Olimpiadi, gli mancava la medaglia d'oro che poi lui ha vinto con le donne e ha deciso poi di continuare la sua avventura con la squadra femminile. Ovviamente non possiamo non parlare di Lazio perché da giugno in poi è stato un continuo avvicendarsi di questioni, di polemiche che ci sono state, soprattutto Tudor non ha rinnovato lo sappiamo il contratto, è stato scelto poi il tecnico Marco Baroni e questo ridimensionamento percepito dai tifosi che avevano cullato inizialmente, che avevano passati da una possibilità di un progetto a lungo termine con Maurizio Sarri, si sono trovati poi con Marco Baroni, un allenatore che non ha un pedigree favoloso diciamo da un punto di vista personale ma è pur sempre un allenatore capace che dovunque è andato ha fatto abbastanza bene ma soprattutto poi nel mese di luglio la Lazio ha dovuto incassare degli addi eccellenti come quello di Felipe Anderson che già l'aveva ampiamente annunciato perché era sua intenzione ritornare in patria per far crescere sua figlia in Brasile ma soprattutto quello di Iliso Alberto, approdato finalmente in Qatar e di Ciro Immobile che dopo otto stagioni alla Lazio, 207 gol e quattro titoli di capo cannoniere e una scarpa d'oro ha deciso di lasciare i colori bianco celesti per accasarsi in Turchia. Onestamente secondo me il bomber avrebbe meritato di andare via in maniera diversa invece di andare via così in maniera come se fossesse uscendo diciamo dalla porta del retro, avrebbe meritato una cerimonia, avrebbe meritato qualsiasi cosa perché i numeri che io vi ho appena citato saranno difficilmente ripetibili da chiunque nella nostra storia e quindi rimarrà un uomo della nostra storia anche fra cent'anni, sicuramente quel nome dai murales o comunque dalla Hall of Fame dello stadio, speriamo che verrà fatto di proprietà, sarà un nome che sicuramente capeggerà su tutti per quello che è stato capace di fare. Credo che in questo la società per l'ennesima volta abbia mancato in comunicazione stile come ha mancato poi durante la condotta della campagna acquisti perché ovviamente il tifoso bianco celeste anche consapevole del fatto che con la chiusura del bilancio al 30 giugno, la Lazio ha registrato il record delle entrate perché ha superato i 100 milioni di euro ovviamente grazie agli introidi della Champions League, si aspettava un mercato più da protagonista e invece sono arrivati inizialmente solamente profili di prospettiva, sono sei gli acquisti condotti fino ad ora, il popolo bianco celeste sperava anche in un nome ad effetto, a lungo si è cullato la possibilità di arrivare a James Rodriguez, giocatore colombiano di indubbio talento anche se un po' avanti con gli anni intorno ai 31 anni se non mi ricordo male e la risposta del presidente Lotito ai tifosi è stata l'ennesima caduta di stile perché ha invitato i supporter a mettere mano al portafoglio a comprare il calciatore se l'avessero voluto con la maglia bianco celeste. Questa sua nuova dichiarazione non ha fatto altro che riaprire vecchie ferite per un rapporto d'amore che non è mai sbocciato fra la tifoseria e la società, un rapporto che è stato più di odio e sopportazione piuttosto che d'amore e odio, un rapporto che adesso in questo momento è proprio ai minimi termini perché si è aperta poi una contestazione che ha alimentato i vari slogan e lo tito vatte e lo tito libera la Lazio in tutte le parti del mondo dove abbiamo visto striscioni appesi in qualsiasi parte tifosi laziali in questo momento sia all'interno del nostro del globo mondiale. Quindi una manifestazione che ha fatto il giro del mondo e come spesso accade purtroppo ha fatto anche e andata anche ben oltre perché il presidente ha dichiarato di aver ricevuto minacce di morte tanto da spingerlo anche a presentare una denuncia contro ignoti o contro noti alle autorità competenti per la salvaguardia della sua persona e della sua famiglia. Certo è che non mi sento di salvare in questo caso il presidente, voi sapete con molti di voi mi sono scontrato più volte per quanto riguarda il mio atteggiamento nei confronti della presidenza ma in questo momento con questo atteggiamento ovviamente è indifendibile ma non perché non voglia il bene della Lazio proprio perché non può continuare a trattare il tifoso come se fosse un suppellettile o come se fosse un appendice di questa società dell'ambiente Lazio perché il tifoso è alla base perché lo sport e il calcio esiste fino a quando esisteranno gli appassionati quando non esisteranno più gli appassionati il calcio non esisterà più e quindi non è un appendice che se c'è bene se non c'è non fa niente è comunque un epicentro e da considerare un centro di gravità cosa che in questo momento o meglio da sempre il presidente non lo ha mai considerato non ci vorreva nulla ad operare delle iniziative che potesse includere maggiormente i giovani tifosi far trascorrere magari ai giovani laziali qualche ora con i propri beniamini che sarebbe poi il modo per poter divulgare in modo più semplice sin dalla giovane età la lazialità perché un ragazzo di 5 6 7 anni che magari trascorre un'ora un'ora e mezza con mattia zaccagni giorno appresso sicuramente a scuola racconterà della sua esperienza ai suoi compagni ucci di scuola e loro magari vorranno avvicinarsi alla Lazio perché la Lazio consente questo cioè non ci vuole un genio per poterlo eventualmente sviluppare e sarebbe comunque un modo per poter includere maggiormente la tifoseria nella vita della società visto e considerato che i calciatori rappresentano un patrimonio della società ma soprattutto consentirebbero di poter diffondere anche una una nazialità completamente diversa e che va al di là di quelle che possono essere poi le classiche offerte per un biglietto scontato del a livello familiare se un papà va con il figlio piuttosto che con tutta quanta la famiglia insomma credo che siamo in grado di poterlo fare comunque per tornare al campo dicevamo sono sei acquisti fatti finora dalla Lazio tre di prospettiva che sono noslin delle bariscio e ciauna due in cerca di riscatto castrovilli che viene da un lungo periodo di infortuni anche nunio tavare c'è un tersino sinistro che viene dalla premier league fronte arsenal che ultimamente ha avuto qualche problema e poi abbiamo di a che è un attaccante oramai è strutturato da un punto di vista fisico nel pieno della maturità calcistica che però fino adesso si è potuto esprimere sul palcoscenici minori vediamo quello che succederà alla Lazio ma la polemica che c'è in in atto nei confronti del presidente rotito ha fatto passare anche in secondo ordine il grande lavoro che ha fatto il direttore sportivo fabiani perché non si è parlato di come sia stato capace di piazzare quasi tutti quanti gli esuberi che noi avevamo e che dal 30 di giugno e quindi scadevano il contratto di prestito e con il primo luglio sono tornati alla Lazio ne sono rimasti solamente due a questo momento che sono ac pac pro e basic e anderson anzi chiedo scusa sono tre è riuscito a piazzare anche giocatori del calibro di fares di camenovic che sembrava non volesse nessuno ad amonis è andato a catania quindi comunque è riuscito a fare un'opera di sfoltimento della rosa piuttosto importante ovviamente anderson sarà difficile ma basic check pack però da quello che si legge sembrerebbe che qualche altra chance di mercato superiore rispetto agli altri ce l'abbiano quindi un grande lavoro fatto dal direttore sportivo fabiani che ha alleggerito anche il carico del del registro paga dove questi giocatori sarebbero rimasti a carico della Lazio senza potersi esprimere a questi due giocatori anzi a questi tre giocatori probabilmente se ne aggiungerà un altro perché il tesseramento di dia quando chi la sarà guarito dall'infortunio spingerà sicuramente uno dei 17 della lista dei 25 fuori dalla dalla rosa in questo momento l'indiziato principale sembrerebbe essere gli usai anche se le politiche societarie anche le occasioni di mercato cambiano dall'oggi al domani anche se mi sento di dire che questa rosa per quello che si è visto poi nell'esordio seppur vincente contro il venezia per 3 a 1 manca un po' di qualità in tutti quanti i reparti in difesa continuiamo con lazari e marusic e commettersi in adattati al centro abbiamo casale che fa una grande fatica e dopo un primo anno discreto purtroppo ha fatto dei passi indietro romagnoli non è assolutamente quel giocatore che probabilmente pensavamo fosse e credo che qui posso dare ragione al presidente lutito quando si era imposto e si era impuntato anche sul discorso contrattuale visto e considerato che defraia cervi si sono rivelati sul campo tutt'altra cosa a centrocampo manca un pochettino di qualità e lo sappiamo tutti rovella non è un playmaker vecino si adatta e cataldi sembrerebbe essere entrato un po in contrasto con società e allenatore per la storia della fascia di capitano poi è stata assegnata a mattia zaccagni sulla tre quarti manca tantissima qualità se pensiamo che siamo affidati al recupero pieno di castrovilli che è un giocatore che aveva dimostrato negli anni di avere grandissimo talento ma la sua integrità fisica è un grosso punto interrogativo e forse lì sulla tre quarti centrale andrebbe fatto qualche piccolo sforzo visto e considerato che comunque la sostanza poi a centrocampo è aumentata grazie a dele basciru che abbiamo visto essere un calciatore in grado di dare muscolarità di recuperare i palloni di saperli spingere in avanti ma ovviamente non ha i piedi di luiso alberto e sulle fasce siamo abbastanza coperti per quanto riguarda poi in attacco castellanos ha fatto una grande partita ma contro il venezia lo voglio vedere nel tempo per poter dare un giudizio diverso e di a speriamo che possano essere poi coloro che in qualche maniera riescano a sopperire magari in due a quello che ciro immobile è stato in grado per fare da solo cosa farà l'alzio in questo campionato lo scopriremo solo vivendo speriamo soltanto di divertirci le vittorie riescono a dare morale a permettere alla squadra di lavorare con calma mi sembra che il tecnico marco baroni abbia le idee abbastanza chiare la squadra è giovane deve crescere ci vuole pazienza l'anno scorso eravamo in la sesta società di serie a per monte stipendi con l'addio di felipe anderson isaberto e ciro immobile sicuramente saremmo scese all'ottavo non opposto quindi questo è al momento la posizione che noi occupiamo nella nella serie a tutto quello che verrà di più sicuramente sarà merito dei ragazzi dell'allenatore e dell'ambiente che si sarà avvenuto a creare perché nonostante le grandi polemiche poi lo stadio è stato riempito sufficientemente e il baccano che hanno fatti i tifosi che sono impagabili a favore della squadra è sempre stato quello da prima squadra di roma e quindi non non si può dire niente è un patrimonio che veramente il presidente dovrebbe imparare a valorizzare un pochettino meglio e non parlare solamente di soldi di indice di liquidità e quant'altro che magari al tifoso interessa poco perché il tifoso vive di emozioni e magari forse sarebbe il caso di queste emozioni di regalargliele anche ogni tanto quindi sabato alle 17 e 30 la lazio sarà ospitata in friuli dall'udinese e lì sarà già un test un pochettino più probante vedremo veramente in quel caso lì questa lazio quale margini potrà avere per potersi eventualmente migliorare se sarà una squadra sufficientemente matura per saper soffrire anche con squadre meglio attrezzate da un punto di vista tecnico tattico e soprattutto se sarà capace di portare poi a roma un risultato utile che le permetterebbe di lavorare con calma in vista poi della sfida con il minane che quella veramente sarà una sfida che potrà dare esattamente un peso anche se siamo all'inizio del campionato di quelle che possono anche possono essere poi le ambizioni o comunque le possibilità di questa squadra anche di combattere ecco io mi fermo qui un video piuttosto lungo e non mi capita spesso di farne così lungo e vi chiedo scusa se vi ho annoiato spero di no perché comunque spero di essere sempre abbastanza veloce nel discorrere di essere abbastanza dinamico vi ricordo sempre di iscrivervi a questo canale di suggerirlo ai vostri amici se vi piacciono i contenuti che vi proponiamo di mettere il like ad ogni video non lo fate per me ma lo fate per vittorio per farlo crescere a voi vi aspetta al prossimo approfondimento se avete delle richieste particolari vi devo rifarla nella sezione commenti o se avete delle domande o se mi volete contestare fatelo comunque in maniera tranquilla perché come vedete che quando io ho la possibilità è tempo rispondo a tutti quanti i vostri commenti e non ho e non sono assolutamente di parte se volete faccio anche dei passi indietro laddove mi riuscite a dimostrare che le mie valutazioni sono sbagliate nel frattempo vi saluto sempre forza Lazio ricordate che comunque il tifo è importante che il tifoso primo obiettivo del tifoso è quello di supportare la squadra poi le polemiche vengono dopo in altre sedi avremo modo di poterci far sentire dal presidente in un'altra maniera ma non facciamo mancare il supporto a questa squadra che è molto giovane deve crescere e la dobbiamo assolutamente proteggere forza Lazio e un ciao da Luca